Sono accompagnati, non hanno bisogno di più di spiegazioni, perché siamo presenti in tutta Italia. Siamo attivi, non vedo anticipato, perché non hanno bisogno di più di spiegazioni, perché non hanno bisogno di più di spiegazioni, perché non hanno bisogno di più di spiegazioni. Il tutorial di un compagno è una figura che è diversa da un dottore, che è il pensato che è un accento di solito. E' la persona che sta un'ora, un'ora che non mi ha accompagnati, tutti gli che sono i soggetti interessati. Quindi si va a tribunale di un momenti, al centro stesso di accoglienza, al periodo di un'ora, che diceva la dottoressa Vassalo. I problemi che hai, in un'ora, il processo del criminale, era un sacco di problemi, noi non dovevamo evitare. Quando gli ragazzi avevano un'indagine, altre cose di cui si parla tantissimo. Arrivano qui con un anno di anni.